Fulvio Dott propone un manuale in versione micro ebook. Si tratta di appunti materici per la ricostruzione di un paesaggio. Riprendendo la riflessione che dall'umanesimo in poi gli artisti hanno proposto sull'estetica ed in seguito la poetica della città ideale, Eutopos per eccellenza, Dott estrapola gli edifici dal proprio contesto urbano e li ricolloca nello spazio del proprio micro ebook, seguendo una regola ben precisa, pensare agli spazi in funzione di chi li abiterà. Regola per l'artista talmente importante da meritare di essere reiterata. Questo nuovo paesaggio è fortemente integrato con la modernità. Il nuovo contesto in cui gli edifici vengono collocati è quello delle smart cities, in cui codici a barre e loghi dei social network si affiancano ai materiali da costruzione che informano il micro ebook, in una riflessione sull'alternanza di spazi reali e virtuali che si rincorre lungo le otto pagine dell'opera, proponendo una sorta di nuovo dot modular soggettivo.